taratatata non mi piace noooo pensavo in una marichella di Yolanda allora, però questa cosa non vale è un vogling Yolanda Hello everyone r Ingenayccitornati con un nuovo video come state? Spero tutto bene come avete passato questa giornata? spero bene oggi siamo tornati con un nuovo video lo tieni o lo scatti mcdonald e useremo queste buste per fare un video dove metteremo i nostri ingredienti che saranno o buoni o cattivi per fare lo slime ma prima di iniziare questo video vi voglio ricordare di mettere un bellissimo pollice in su di iscrivervi al canale e attivare la campanella la famosa campanella importantissima vicino al tastino iscriviti per ricevere tutte le notifiche dei miei video che vengono caricati tutti i giorni alle ore 14 e 30 in più facciamo un il giochino indovina la parola una volta fa daniele quindi indovinate la parola che mima daniele è difficile questa volta state attenti 3 2 1 ok è difficile non ho capito niente qui a turno metterà un ingrediente dentro la busta e l'altro dovrà scegliere se tenerla o scartarla basta sasso carta fornici ok allora io mi tengo così ben dato allora facciamo così proprio perfetto si allora cosa ho preso però questo taratarataratatavat a non mi piace allora cara Iolanda si puoi vedere puoi aprire gli occhi se vuoi aiuta la busta è chiusa ok allora lo tieni o lo scarto questo mcdonald lo lo scarto? Io lo farai sempre, però non è un Mc Donald. Io lo tengo. Bebe, bebe, bebe. Prego. Che hai preso? Hai pagato un caffè? Va bene. Eh. Va bene. Che ti asfattavi un ingrediente? Non vedo, è impossibile. Eh, non vedo, non sento e non parlo. No, sento e parlo. No, senti e parli, ma non puoi capire cosa ti sto mettendo all'interno di questa busta. Allora. Sembra quello del film, però. No, 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 lo tieni o lo scarti? Puoi abbedire gli occhi? Scarto. Lo scarti? Vedi cosa c'è dentro. No, pensavo in una marachella di Yolanda. Uhu, pepe, pepe. No, lo scarto della scena barba. Ma quanti scarti abbiamo? Abbiamo solo tre scarti e sono cinque ingredienti ciascuno. Ah, quindi a Yolanda sono giocato uno. Tu ti sei giocato a Yolanda un ingrediente e quindi hai quattro ingredienti a tua disposizione. Vado? Vai, vai, vai. Vado, 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 vado. Io lo sapevo che il primo ingrediente è, ma io lo sapevo. Vado, 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 vado. Non posso neanche toccare. Lo tieni o lo scarti? Allora, prima ho tenuto, lo tengo. Ok, apri. Ah, meno male, dai. Fattibile. Sì, dai, la gola della Helmers. Oh, però io intanto ho tenuto due ingredienti, dai, ci sta, dai. Chiudi gli occhi? Ma basta, chiudili bene. Ho i panni proprio negli occhi, non posso vedere. Allora, loro stanno vedendo l'ingrediente che Daniele, questa busta, puoi aprire gli occhi. Questa busta, la tieni o la scarti? La tengo. La tieni? Apri e vedi? Ah, la cannella! Vediamo la faccia brutta di Daniele. Fate lo screen, allora, fate lo screen di questa faccia di Daniele e mandatacelo su Instagram, mi chiamo così, mi raccomando. Questa faccia è epica. Che bello, quindi avrai colla e cannella. Non sarebbe la cannella di Daniele. Eh sì, è buono però, dai. Ok, sono pronto. Ti è pronta? Pronto. Ti è pronta, 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 pronta? No, è prontissima. Sicura? Sì, sì. Buono. Qual è il Kinder? Yolanda, allora che fai? Lo tieni o lo scarti? Bene, non così vicino, allontanati. Allora, io lo scarto, visto che ho ottenuto già due ingredienti. Ok, vai. Ah, vabbè, la maizena. Oh, facevo... Non era malvagio. Facevo caffè, maizena, uova, farina, facevo dolce, facevo dolce. Vabbè, quindi questo ingrediente lo scartavo e niente. Ok. Sei pronto? Yes! Ciutti gli occhi. Allora, vediamo cosa ti ho scelto. Vai, Daniele, apri gli occhi. Allora, questo ingrediente, McDonald's, lo tieni o lo scarti? Lo tengo. Lo tieni? Yes! Apri. Palline bianche! Bello! È tutto bianco il mio slime. Che meraviglia! Bene, 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 bene. Allora, cara Yolanda, ho scelto un altro ingrediente. E ora lo vado a porre qui dentro. Ok, Yolanda, puoi piedi gli occhi. Yolanda, lo tieni o lo scarti? Allora, prima ho scartato un bollo. Lo tengo. Vai. Cioè, allora, però questa cosa non vale. Perché? Cioè, dove hai messo le palline nere? Eh? Che comunque sono brutte. Eh, che fa? Questa cosa non la ritengo giusta. Mi vendico. Vabbè, non ti preoccupare. C'è camoè? Come? Cosa hai detto? Allora, ragazzi, sono pronta. Fino ad ora, quanti prenditi siamo? Quattro? Anche questo tuo è quarto. Questo è quarto. Allora, questo è l'ingrediente che sto andando a mettere all'interno di questa busta. Ok. Allora, Daddy Boy. Què? Sei pronto? Yeah! Allora, apri gli occhi. Cosa fai con questa busta? Allora, io ho fatto uno scarto, tu lo prendi? Scarto. Scarti? Mmh. Per vedere all'interno della busta cosa c'è. Ah, tolla glittura. Zni, zni. Zni? Zni, dici che stai rosicando. Dillo che stai rosicando. Ok, io le sto per mettere questo ingrediente all'interno della busta segreta. Questa è la busta McDonald's misteriosa. Ok, Yolanda, prego. Ah, no. Yes. Cosa fai, Yolanda? Lo tieni? Oh, lo scarti. Lo tengo. Tu cosa fai? Ma adesso, lo tengo. Lo tiene anche Yuki. Vai. Ho paura. Oh, sì. Il balletto di Yolanda. Ragazzi, rifate su TikTok il balletto di Yolanda. È un vogging. È un vogging di pezzotto. Ok. Ok. Ma poi siamo nel quinto. Sì. Ora anche a te è l'ultimo. Sì. Ma forza. Ma perché i Daniele sono stupidati? Allora, l'ingrediente che io sto andando a mettere è questo qua. Allora, ti sto per mettere l'ingrediente all'interno della busta. Ok. E adesso tu devi scegliere se scartare o tenere questa busta. Posso? Puoi scioglierti, stavo dicendo. Puoi scoprirti. Allora, la scelta è ardua e importante della mia vita. Veramente. Lo tengo. Lo tieni? Vai. Vedi? Oh. La tua reazione. No. Oh. Ale. E dove stava? Non l'ho sentita prima il frigorifero. Ce l'hai nascosto. Senti, io non svelo mai i miei posti segreti. Non lo so. E questo era il tuo quinto ingrediente. Sei contento? Il mio slime farà schifo. Eh, anche il mio. Ok. Allora, rispettivamente abbiamo i nostri ingredienti. Mamma mia. Io ne ho tre che fanno pena. Io ne ho quattro e forse ce la possiamo cavare. Allora, come ingrediente per tutti e due, bonus, abbiamo la colla trasparente. Eh, bonus, non c'è colla. Appunto. Quindi uso questa. Poi devi usare per forza questa. Allora, vai. Allora, io devo mettere la colla, questa qua, che per scendere mi sa che ci metterà 300 anni. 300 anni? 300 anni, quindi inizio a mettere la schiuma da barba. Eh, ragazzi, a me c'è poco da fare. Non è chissà, non lo faccio. Vado a mettere. Io però se non... La cannella. Il caffè è bui. E che è il caffè della Peppi. Uh, che profumo però. Ragazzi, il caffè è buono. La soia. Salsa di soia. Salsa di soia. Canto una pallina. Vado a mettere... Guardate, ragazzi, la soia. Vado a mettere... La colla. Allora, io nel frattempo ho messo tutte le cose. Vai decisamente... Ma... Eh... Però ti posso dire una cosa. Di che? Ti devo dire questa cosa. Il mio slime sembra uno slime oreo. Il mio sembra... Boh, come diremo. Guarda, guarda, però. Con dentro i pezzettini, il caffè sembra una pezzettina di cioccolato. Cioè, quindi tu nella sfortuna... Sono andata pure... Sono andata pure... Però ti dirò che la soia... Ti ha colorato lo slime. Fa ancora più schifo di prima. Non cambia niente. Ok, io vado a mettere la tensante, ragazzi. Così da tensare. Ah, non tu perché? Guarda. Eh. Bellissimo. Sembra... Cosa sembra? Il sushi slime. Trasparente. Si addensa sempre... Ma che cos'è questo rumore? Abbiamo i fantasmi in casa, ragazzi. Oh, allora ragazzi. Lo slime sta avvenendo. Anche a me. E devo dire che sta avvenendo anche abbastanza bene. Allora, vediamo. A me non fa schifo perché l'ho fatto un sacco di pasta che vuoi. Ragazzi, lo slime è avvenuto. Ma? Ma è avvenuto un po' strano. Ma a me non hai detto che sia tensi con la soia. Guarda. Allora, sembra un oreo slime. Ma che bello. È avvenuto una medusa alla soia. Una medusa alla soia. Invece il mio è avvenuto molto bene. Il mio non è avvenuto. Che meraviglia. Allora, ragazzi. Non diciamo neanche mettete i gogi perché il mio non è avvenuto. No, non diciamo neanche degrettate il vincitore perché tanto... Non per essere cattivo ma avvito i gola. Esatto. No, cioè tu mi volevi far andare male. Mettendomi il caffè. Però intanto lo slime è avvenuto molto bello. Sembra uno slime moreo con tutti i pezzettini di cioccolato dentro. Ti provo a farlo? Scusa. No, io non toccolo. È avvenuto super scoppiattante perché sono stata molto fortunata a beccare gli ingredienti giusti. Basta! Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi abbia divertito e che vi sia piaciuto. Mi raccomando, indovinate la parola che ha detto a Daniele sotto nei commenti. Noi vi mandiamo un bacione. Un abbraccio forte. Come sempre ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video. Bye! Bye!